Carissime amiche, carissimi amici, buonasera dal vostro giocherellone che oggi vi porta il Robloxone. Iniziamo a salutare tutti gli amici che sono qui comparsi, iniziamo a vedere tutti gli amici che sono qui comparsi perché non ci fermiamo, non ci fermiamo, sta arrivando anche la programmazione, pensate un pochettino, autunno, inverno del giocherellone. Irina Platoon, primo a entrare, grande Irina, la nostra grande Irina che con me addirittura giocherellone, giocherellone 79, tutti gli amici sono appena tornati. Eccolo qua, guardate qua chi c'è, la ragazza col brand verde. Donut, ciao caro Donut, ciao Superlagit, grande e si vola, grandissimo Superlagit, ciao bro, ciao fra Donut Roma per la prossima edizione del bonifico effettuato per eventuali modifiche, il bonifico di Donut, ragazzi, è assurdo. È arrivata la mitica Super Sofia, Super Sofia, e beh ragazzi ci siamo. Giocherellone 79, se volete giocare ovviamente con me, in questa incredibile live sul canale videoludico più divertente d'Italia dove giocate proprio con me, giocate con la community del giocherellone, guardate qua chi c'è, la piccolella, la piccolella, ecco qua. La ragazza, ciao, giocherellone, tu chi sei, tu chi sei, non mi dire che sei Sofia, sì, è proprio Sofia, la piccola Sofia in versione Ninja Garden, pensate un pochettino con la fascettina direttamente in testa, gli occhialini e la tuta da Spider-Man. La live non mi carica, quindi non ti sento, 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 non ti sento. Adesso dovrebbe caricarti la mitica live, anche perché ti sto parlando, cara Sofia, Super Sofia, Super Sofia, ti sto parlando, forse gli carica a Sofia la live, prendi il telefono, almeno prendi il telefono e gioca con noi. Dice Donat, Roma, Yolo, il suo primo film, il film di oggi, il film di Yolo. Vediamo un pochettino qui ovviamente, oltre alla Super Sofia, c'è la mitica Eva, non sappiamo chi sia questa ragazza. Questa ragazza col cappellino pensato un pochettino del Napoli e vestita tutta quanta azzurra, addirittura, con questi capelli giganti e il giubbottino a coniglietto, fa un caldo incredibile. Ecco qua, e guardate qui chi c'è ragazzi, la ragazza col cappellino a forma di diavoletto, Spider-Man, Hello Kitty, Spider-Hello Kitty, addirittura, è la piccola Sofia, la più piccola della casa praticamente. Qui vediamo chi c'è ragazzi, il nostro mitico amico, Ale, ti piace? Sì. Il nostro mitico amico con gli occhialini, vedete ragazzi, con gli occhialini, e addirittura un po' pelato, un po' rasato, vedete un pochettino Donat, il film, il film è in piacevole compagnia, con la sua famiglia, con la sua famiglia, vienetelo a vedere. Qui abbiamo un cavallo, un cavallo gigante, ragazzi, guardate un pochettino, un cavallo gigante che si chiama Rosa, il cavallo nero che si chiama Rosa, quindi un personaggio sicuramente non poco, non poco notabile, dobbiamo dire la verità. Qui stiamo all'interno veramente di qualcosa di incredibile, ed è arrivata lei, praticamente, la ragazza col costume da bagno, addirittura col costume da bagno, e fa bene perché fa un caldo incredibile, ma si veste davanti a te. Herminia, c'è il giocherone Donat, 444.440 euro a Roma, gli hanno fatto il bonifico. Super Sofia, la ragazza che ti porta ogni giorno via, andiamo sulle spalle, ragazzi, Super Sofia, andiamo a vedere se Super Sofia ce la farà a portarci sulle sue spalle. Il Napplaton è un giocherone, non mi fa aggiornare Roblox, voglio giocare così tanto con te, mi puoi consigliare qualcosa? Chiudi il programma e riaprilo. Che sodore? Chiudi. Sento un odore, un odore un po' particolare. Sento un odore, ragazzi, un po' particolare. Vabbè, scusate, scusatemi un attimo, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti da questa parte qua. Spero che mi sentiate, che mi vediate, e sentivo un odore, ma che sodore? Un odore, ragazzi, un po' particolare. Non lo so che cosa era, forse un odore che veniva da fuori. Agna. Mai sento un odore particolare. No, non è... Cioè, sento, ragazzi, un odore un po' particolare. Non so cosa sia. Ma che sodore? Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, pensavo, boh, chissà, chissà, forse veniva da fuori. Veniva... Ma che sodore? Cosa sta succedendo, ragazzi? Vabbè, continuiamo, continuiamo per questa strada, continuiamo per questa via, praticamente. E giochiamo il giocarellone, non mi fa aggiornare Roblox, cosa fare? Cosa fare? Sicuramente chiudere e riaprire, praticamente, chiudere e riaprire, praticamente, il programma. Erminia, tutto bene in questo periodo di crisi economica? Che si può fare? Cosa si può fare? Devi trovarti un lavoro, caro Donat. Devi trovarti un lavoro appena sarà possibile trovarti un lavoro. Pensa un pochettino, caro Donat, ebbene sì, ebbene sì, ebbene sì. Quindi mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando. Siamo, sono momenti un po' particolari. Ragazzi, scusate, devo vedere una cosa che sento un odore un po' particolare. Siamo, sono momenti un po' particolare. Va bene, va bene ragazzi. Il bello, il bello della diretta. Giù, tutto bene? Sì, sembra di sì. Sembra di sentire un odore un po' particolare, scusate. E mi sono voluto alzare per andare a verificare. Va bene ragazzi, andiamo con Donat. Che si può fare in questo momento di crisi economica? Sicuramente andare a cercarsi un lavoro. Erminia, si sto bene? Grazie mille. Buona giornata anche a voi, con voi. Il commento alle modifiche e integrazioni. Devcat, Andrea, Andrea Devcat. Il nostro caro amico, il nostro caro capo, moderatore. Pensate un pochettino, che è appena arrivato da noi. Appena arrivato da noi, non lo andiamo a salutare. E noi tutti ti aspettiamo. È scritto un libro. Devcat, ho scritto al momento tre libri. A breve ne uscirà un quarto. Lavoro già fatto, un mese Donat. Aspetta, mi devo fare un iletto. Pensate un pochettino, è arrivato dal mitico Franci. Ragazzi, un nuovo ragazzo, un nuovo amico. Pensate un pochettino. Vabbè, Irina, ci ho provata, non me lo fa aggiornare. Vabbè, sarà per la prossima volta. A proposito, quando farai la lave di Brawl Stars? La prossima volta. Donat, no, ne hai scritti tre. Ho scritto tre libri. Il primo libro è stato La mia filosofia, che ha avuto un buon successo. Un altro libro è stato Gli archetipi zodiacali e l'amore che ha avuto un ottimissimo successo. E poi c'è La fine dello shogunato e la restaurazione Meiji in Giappone che ha avuto un successo abbastanza basso. Forse per una tematica di nicchia. Fra poco uscirà un mio quarto libro. Come mai non hai detto nulla tutto il suo tempo? Caro Andrea, mi sono dovuto un attimo assentare perché sentivo puzza di bruciato ma non veniva da casa mia. E quindi sono andato a vedere un attimo che cosa stava succedendo. E qui è il grande, ovviamente, Francesco con la mitica maglia, pensate un pochettino, della Roma. Se VIP adesso... Sì, Sofia adesso è VIP member. Pensate un pochettino direttamente. Non si dice, ma si fa. Sofia è VIP member su Twitch, ragazzi. Quindi se venite da Twitch, ma lo ero già da un sacco, se VIP member, pensate un pochettino su Twitch, veramente qualcosa di incredibile. Pensate un pochettino. Non è vero, non è vero. Lo sei da poco tempo, Sofia. Effettivamente, lo sei da poco tempo, Sofia. Pensate un pochettino. Sono venuto. Ecco Francesco, il nostro caro Francesco, che si trova qui, praticamente. Vedete un pochettino. Non è vero. Il grande Francesco, che si trova qui. Il grande calciatore. Fai un libro sui videogiochi. Un libro sui videogiochi... Non lo so, sarebbe qualcosa di molto, molto lungo fare un libro sui videogiochi, caro Andrea Devacat. E oltretutto i videogiochi sono cambiati tantissimo negli ultimi tempi. Infatti, credo che a parte questo libro, questo libro, praticamente, e un altro che in realtà devo chiudere, non pubblicherò più libri, perché tutti vogliono scrivere, ma nessuno vuole leggere. Fare un libro richiede tantissimo tempo. La vita è una corsa, perché gli anni di vita sono molto, molto pochi rispetto alle possibilità che si hanno nella vita. E quindi si deve cercare di fare le cose che, ovviamente, oltre che ad appagarci di più mentalmente, ci portino, ovviamente, anche più denaro possibile, perché si lavora, si lavora, si lavora per avere un ritorno, un ritorno che può essere la fama. E, ovviamente, i denari. Pensate, poi, ti intendevo come mai, non hai detto nulla sui libri. Sui libri, mi ho sempre detto, ne ho sempre parlato, caro Andrea Devacat, sono presenti nei miei link da sempre. Donat, Jean Botlon, Lavoro Donat, Francesco, sono venuto, è venuto Francesco, ce l'ha detto a Sofia, Francesco, anche Sofia, sa benissimo che ho pubblicato dei libri, e mi sembra che li abbia anche letti. È arrivato il mentre con Dragonfire, ciao, ciao, Dragonfire. Francesco, la Sofia ha detto quella cosa, ha detto che VIP member, Sofia e VIP member, è arrivato anche Dragonfire, con le sue ali di fuoco, pensate un pochettino, appena arrivato sul nostro canale. E, ovviamente, yes, ma non ho preso i libri, Sofia sa che ha preso, sa che ho pubblicato i libri, ma non li ha ancora comperati. Sono Dragonfire, Dragonfire, eccolo qui, eccolo qua, da quanto tempo, caro Dragonfire, sì, ci sono state delle giornate, col giocherellone un pochettino particolare, dove abbiamo messo, dove abbiamo messo, caro Dragonfire, a posto determinato come, ma come stai bene, da quanto tempo, ecco qua Sofia, che subito fa i complimenti, la piccola Sofia, a Dragonfire, pensate un pochettino, dice come stai bene, con questa maglietta, con questi jeans, con questi occhiali, col sorrisello, e con le ali, arcobaleno, pensate un pochettino, eccomi qui, eccomi qui, eccomi qui, Dragonfire, tutti quanti nella macchina di Dragonfire, potevi pigliarlo un pochettino, più, più di alto livello, sta macchina, e Sofia rimane a piedi, ecco la piccola Sofia, pensate un pochettino, hai detto che l'ho spiata, è spiato a Sofia, non lo so, non lo so, Donat, fa Roma, ma si fa Roma, guarda Sofia, che arriva da dietro, addirittura, arriva da dietro, e ti fa lo scherzetto, comunque ragazzi, sta per partire, la mitica, la mitica, la mitica, programmazione, autunno-inverno, del giocherellone, giro del mondo, in 80 giorni, bellissima serie animata, bellissimo libro, ovviamente, soprattutto per i ragazzi, molto molto gradevole, giocherellone, a proposito, ho ripreso a giocare a Minecraft, ho scoperto una roba incredibile, si chiama Submerged Sea Police, non lo so, io sono andato abbastanza lontano, caro Andrea Devacat, sono arrivato in un posto, dove addirittura c'erano, pensa un pochettino, c'erano addirittura, c'erano addirittura, pensate un pochettino, delle mucche infettate dai funghi, tutto bene, il lavoro di seguito, l'ho chiesto se no, a me tutto bene il lavoro, a te va tutto bene, Francesco, te l'avevo detto, come te lo sei scordato, che cosa Francesco, scusami, giocherò a proposito, ho ripreso a giocare a Minecraft, non ho capito, impari a programmare in 80 giorni, no, il giro del mondo in 80 giorni, è un libro per ragazzi, molto molto bello, ha avuto un successo incredibile, è stata fatta anche una serie animata, comunque ragazzi, preparate perché la programmazione a turno inverno del giocherone sarà qualcosa di incredibile, Donat, dice giocherone, dimmi caro Donat, il nostro caro amico, ecco qua Francesco, la cosa che ho spiato a Sofia, è spiato a Sofia, ma non ti preoccupare, il VIP member, lo puoi sempre vedere, tutti sono praticamente, caro Francesco, osservabili, e Sofia è diventata VIP member su Twitch, avete capito bene, ha il diamantino, infatti se venite da Twitch vedrete che Sofia ha il diamantino, Donat, fammi avere la conferma della Repubblica, che mi hanno detto il cibo che, il cibo te della Repubblica, il cibo la carta cibo, Francesco con Elia, con Super Elia, non so, sapevo che in realtà Sofia si era lasciata con Elia, perché Elia non permetteva a Sofia di vedere la sua migliore amica, e quindi Sofia praticamente ha detto, guarda basta, non ce la faccio più con te, mi voglio lasciare, voglio interrompere questa relazione, pensate un pochettino, perché mi segui tanto, mi odi, praticamente, fra, mi fa un favore Francesco, qua qua, Francesco, Francesco, ha litigato, praticamente con la piccola Sofia, pensate un pochettino, Sofia era con Elia a scuola, la scuola, ma la scuola deve ancora iniziare, Francesco, no, non si sono lasciati, si sono riuniti, io sapevo che si erano lasciati, si sono rifidanzati, assurdo davvero, è d'asilo, l'ha presa la mia casa da 1660 euro, l'ho venduta, la villa, mi prendi, mi prendi con te, e mi porti, cara Sofia, ma credo che i posti non ci siano più, quindi seguici con la macchinina, praticamente, assurdo davvero, quindi Francesco, forse questa che non voglio, nessuno, quindi ora, una casa strabella, quindi vivi solo in questa casa, senza ragazze, senza donne, tu da solo, un buon partito, sicuramente, un buon partito da scegliere, praticamente, carissimo Francesco, Francesco ha indirizzato tutti i suoi soldi, nel comperare, pensate un pochettino, una casa, comunque oggi non sono a casa, Donat, Gian Botloni, seguito il cibo che abbiamo scelto, per eventuali problemi con la Repubblica, che, ma quale Repubblica, Donat, ecco qua, doggio, che non ne prendi, come ti faccio a pigliare, se mi stanno portando loro, comunque oggi, ecco qua, vedi un pochettino, allora, sto alla mia villa per 5 giorni, 5 giorni con te, tu perché non parli Sofia, perché non stai parlando, perché non stai dialogando Sofia, ma in realtà Sofia sta scrivendo, sta dialogando, ci siamo bloccati, ci siamo bloccati in questa macchinina, con Dragonfire, che purtroppo, come potete vedere, sta suonando in macchina, ma è guidare e suonare insieme ragazzi, mi raccomando, allora, clicca sul mio personaggio, e premi piggyback, ecco qua, addirittura Sofia, si infila, ti infilati nella macchina, adesso, Bruno, Bruno, Bruno Brush, praticamente, Francesco, ecco qua ragazzi, incredibilmente, Sofia, Sofia, guardate un pochettino, non capisco, non capisco, guardate un pochettino, il giocherellone se ne scappa, e quindi Sofia, guardate Sofia, cosa fa adesso, guarda Sofia, la super Sofia, ciao ciao, ecco qua il piggyback, vedi, guarda Donat, cosa si fa, che si clicca qui sopra, e Sofia ti porta via Foria, pensate un pochettino, Sofia che ti porta via Foria, direttamente, guarda come corre, guarda come dondola, addirittura, è veramente velocissima, ed eccoci qua, casa Sofia, ragazzi, Sofia K, Sofia Up, questa è la casa di Sofia, la super reggia di Sofia, come potete vedere, guardate che mitica fontana, splendente, con le cose, ripariamo, prepariamo una festa, Dragon Farah è pronto per la festa, mamma, mia presenza, eccola qua, guardate un pochettino qui sopra, che dove sta, stiamo a casa Sofia, prepariamo la festa a casa Sofia, andiamo, buongiorno, buonasera, entriamo all'interno, qui c'è la sala pesi, per fortificare il corpo, per temprarlo, per avere i super bicipiti, pensate un pochettino, Francesco Giocro non ne guarda, che devo guardare, caro Francesco, mamma mia ragazzi, guardate Francesco, che cosa ha fatto, ha preparato una festa, addirittura a Checo, ha detto anche Francesco, guardate un pochettino, molto timido, forse per la presenza di Sofia, ha preparato una mega festa, con i mega riflettori, ma Sofia è molto indispettita, la piccola Sofia è molto indispettita, Francesco infatti, se ne va lontano, non si sente a suo agio, forse è intimidito da Sofia, che lo guarda, in questa maniera, molto molto strana, mamma, vieni qui, mamma, vengo qui, mamma, ecco qua, i fiori per Sofia ragazzi, qui un corteggiamento, un corteggiamento, vedete i ragazzi, che si stanno quasi per fidanzare, addirittura, Francesco offre delle rose, praticamente a Sofia, Sofia si prende le rose, e ha accettato le rose, Sofia, addirittura, davanti a Francesco, wow, prima che potevano stare insieme, mi ha ignorato, praticamente, Sofia, molto molto, praticamente, e rimane, rimane in una forma, in una forma molto, molto particolare, come potete vedere, la piccola Sofia, dice, ho ricevuto delle rose, ho ricevuto una dichiarazione di affetto, ma ovviamente Francesco, non sa che dire, cioè, Francesco dice, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, caro Francesco, come potete vedere, il caro Francesco, ce l'ha fatta anche lui, assurdo, davvero, e Sofia dice, ti seguivo in tutti i giochi, ora è troppo tardi, mamma mia ragazzi, Sofia dice, ormai è troppo tardi, per l'amore, donata fa, si antusi, e di provvedere alla cancellazione, di queste email, al vostro fondo di assistenza, oggi è effettuato per errore, in seguito i documenti, che ti hanno mandato via, mi hanno mandato via, propri documenti, Sofia, butta via i fiori, praticamente, dice, sì, ormai è troppo tardi, per fidanzarci, Francesco rimane con questa faccia, guardate la faccia di Francesco, rimane molto triste, dobbiamo dire Francesco, e Dragonfire, mi porta via, ma ovviamente, Dragonfire, non posso essere portato via, perché la love story, qui sta prendendo una piega, un po' particolare, Sofia è rimasta così, è rimasta titubante, pensate un pochettino, Dragonfire si sta portando via Francesco, vedete un pochettino, che ovviamente, molto rattristato, per quello che è accaduto, dice che io volevo fidanzarmi con Sofia, ma purtroppo non posso fidanzarmi con lei, e Sofia dice, mi dispiace Francesco, ormai implotizzata, implotizzata, più ipnotizzata che implotizzata, Sofia, ormai Sofia, è rimasta molto, molto ovviamente, ammesso, accettato le rose, per educazione, ma purtroppo Francesco, è stato rifiutato, Francesco, con la maglia del 21, praticamente, o del 27, è rimasto, molto rattristato, come potete vedere, e non vuole più vedere, Sofia in faccia, che in realtà, si pone, alle spalle di questo, alle spalle di questo, ragazzi, almeno i fiori, almeno i fiori, mi piacciono, almeno i fiori, ti sei pigliato i fiori, ma non ti vuoi pigliare, Francesco, che si mette di spalle, si mette di spalle, non vuole più guardarti, Francesco, rimasto molto offeso, ma Dragonfire, si butta avanti, ecco qua, Sofia, Sofia, che ha detto, Sofia, perché non parli, sta parlando, Sofia, sta parlando, Francesco, ecco qua, molto rattristato, vedete, un pochettino è stato rattristato, e se ne va via, dice, sono stato, sono stato, addirittura, rifiutato, Francesco, sperando che non faccia un brutto gesto, vedete, lo seguiamo, proprio per evitare che egli faccia un brutto gesto, dove vai Francesco, non andare sott'acqua, non andare sott'acqua, Francesco, non ti preoccupare, la vita continua, la vita continua, ragazzi, mettete un bel mi piace, per incoraggiare Francesco, a trovare una nuova fidanzata, una nuova fidanzata, perché, ecco Francesco, ecco qua, pensate un pochettino, vai, vai, vi seguo, vi seguo, ma intanto Francesco, veramente, molto rattristato, vedi, un pochettino molto rattristato, Francesco, per questa grande delusione, una delle più grandi delusioni della sua vita, pensate un pochettino, oltretutto, in diretta, Francesco è stato rifiutato da Sofia, ma Sofia, stranamente, adesso gli va dietro, gli va dietro, praticamente, Sofia, proprio, forse per paura che Francesco, possa fare una brutta, una brutta, diciamo, un brutto gesto, un gesto sconsiderato, ma non vuole più Sofia, vedete un pochettino, Francesco che se ne sta andando, praticamente, lui da solo, in questa giornata Robloxona, praticamente, la Robloxona, seguiamo Francesco, cerchiamo di capire Francesco, che cosa voglia fare, Dragonfire, vuole fare il piggyback, mamma mia ragazzi, qui è bruttissima, questa situazione, vedete un pochettino, Francesco, purtroppo, non riesce a saltare, come si deve, cade a faccia a terra, è morto, è morto, è morto, no, no, ragazzi, chiamate un'ambulanza, Francesco si è appena sentito male, si è suicidato per amore, non fatelo in casa, non fatelo mai, chi non vi vuole, non vi apprezza, Francesco, purtroppo, ha fatto un brutto gesto, lo sapevamo, lo sapevamo, il brutto gesto di Francesco, ecco qua, addirittura Sofia lo sta portando via, lo sta portando dalla polizia, praticamente, lo sta portando, al 118, 118, mamma mia ragazzi, è assurdo, davvero, momenti veramente drammatici, in questo Groblox, vedete, un pochettino con Sofia, che si fa carico della responsabilità di aver rifiutato Francesco, Francesco si è sentito male, pensate un pochettino con Fred Dragonfire, ma vediamo cosa sta succedendo, qui con i nostri amici è arrivato Big Mama, addirittura Big Mama, guardate Sofia che porta via il mitico Francesco, porta via Francesco al 118, direttamente all'ospedale, all'ospedale locale, praticamente all'ospedale locale, per capire un attimo cosa possa fare, cosa possa fare, ed eccoci qua, praticamente non riesco nemmeno a correre, pensate un pochettino, entriamo quindi qui dentro, andiamo a vedere, andiamo a vedere cosa può succedere all'interno di questo luogo, andiamo nell'ospedale e troveremo sicuramente anche Sofia, Sofia eccola qua, praticamente il ragazzo si è sentito male, si è sentito male in diretta, come potete vedere, purtroppo non c'è un dottore, ci sta solo Big Mama, praticamente Big Mama, la ragazza, la ragazza che viene da un altro pianeta, qui c'era, praticamente it's poor perfect, le scarpe di Francesco, quelle col formaggio sotto i piedi, se lo vedeva Elia, se lo vede Elia, se lo vede Elia sta male, praticamente sta male Elia, vedete un pochettino Sofia, molto preoccupata per quello che è accaduto, praticamente è Francesco, ancora di più, Francesco ancora di più, che ti guarda, praticamente in questa maniera, in questa maniera, molto molto ridicola, Erminia, giocherone sono Sofia di Twitch, Erminia sei Sofia da Twitch, la mitica Erminia, la mitica Sofia, ovviamente si gusta la live, direttamente da YouTube, da Twitch, non lo so da dove te la stai gustando, sappiamo solamente, sappiamo solamente, che il ragazzo si è sentito male, a seguito di una forte delusione amorosa, pensate un pochettino, una forte delusione amorosa, il povero Francesco, vedete un pochettino, che cosa sta facendo, sta praticamente su questo letto, e si è sentito molto, ma molto, ma molto male ragazzi, sono momenti, aiuto, aiuto, chiamate, chiamate qualcuno, Sofia sta vicino Francesco, si sente forse responsabile, ma in realtà non è responsabile Sofia, perché in realtà Sofia, mamma mia, guardate la faccia del ragazzo, la faccia del ragazzo è diventato un mostro, praticamente mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, ragazzi, brutte situazioni, brutte situazioni, il mio Francesco se lo vedeva Elia, lanciava una scopa appresso a noi, appresso a noi, brutta situazione, il ragazzo praticamente qui, ha una faccia molto contorta, la faccia della morte ragazzi, veramente, non ci aspettavamo una puntata di Roblox, in questa maniera, e invece qui, e invece qui ragazzi, pensate un pochettino, momenti, veramente paurosi, momenti ovviamente che hanno del, quasi horror, praticamente una puntata quasi horror, veramente incredibile, assurdo ragazzi, molto molto triste, che dire, cosa succederà nella prossima puntata, Francesco riuscirà a ritornare integro, Sofia si sentirà responsabile, e ovviamente super Elia, super Elia che fine farà, non lo sappiamo ragazzi, noi vi ringraziamo, ambulanza, ambulanza, Francesco riposa in pace, rip praticamente, mi accetti l'amicizia, big mamma, si giocherellone 79, per giocare sempre con me, ragazzi, che dirvi, la puntata di Roblox, si chiude qui, noi ce ne andiamo a preparare, la pappa, la cena, e ovviamente, se volete giocare col giocherellone, potete farlo, giocherellone 79, poi troverete gli short, di questa puntata, direttamente, sul canale YouTube, e Twitch del giocherellone, mi raccomando, ricordatevi che le live, verranno effettuate, anche da TikTok, e per il resto, io vi ringrazio per la visione, e ci vediamo, più tardi, in serata, con altri, incredibili, videogames, grazie a tutti coloro, che hanno partecipato, se vi piacciono i miei video, iscrivetevi, YouTube e Twitch, sono i principali social network, però, ovviamente, vi consiglio anche TikTok, per i vari short, e per i vari, le prossime live, che verranno addirittura, fatte, proprio, proprio, da TikTok, io vi ringrazio, Anna Gattina, ciao, Anna Gattina, buonasera a te, e ci vediamo, più tardi, con altri, incredibili video, ciao, dal vostro, giocherellone, ciao.